Bene ragazzi Malar War Coolits A noi viene da ridere perché giustamente abbiamo appena terminato un episodio così senza essercene accorti, però voi state vedendo il gameplay dopo qualche giorno e niente, in realtà ci siamo dovuti bloccare, ripartire riregistrare, niente, andiamo con l'ultimo episodio l'ultimo episodio di sto gioco di merda l'episodio finale che non è un finale abbiamo scoperto il traditore, abbiamo portato Asher a Westeros, ma è morto Roderick è sopprendentemente ancora vivo, previously on Game of Thrones vediamocelo perché questo è l'ultimo mi piace questa transizione così lusa ci fanno vedere Ram sembra non qui uscirà di nuovo io ho totalmente scordato di questo tipo totalmente devo arrivare in là Sara guarda, io non posso arrivare in là Marjorie è già furiosa con te tu mi dimentichi per questo tu non sei un leader tu sei un soldato che cercano di provare che sia ancora un uomo ma io ho capito come li hanno strutturate in che senso mettono pregresso e scelta finale il montaggio rapido ah ok ok questo tipo ci sarà noi che prendiamo per culo al ragazzino no e siamo tornati al primo episodio non mi ero dimenticata la fascia del Lord lui famoso Lord Ridge Forrester hanno fatto un grave errore non bruciarlo comunque e poi è un bel corpaccione è morire noi stiamo registrando questo gameplay al 18 di marzo è molto heavy di marzo questa scena è vero due giorni fa tre giorni fa ah no non è la scena prima della sigla pensavo vabbè mi preparo per il gameplay quindi adesso vedremo questo famoso bosco del nord non ne fa tempo coltiamoci l'aurora e poi ne ha è quasi carina devo dire non lo so non lo so ma lo trova nel cielo ah ora l'ha capito l'ha capito ora si stanno muovendo ma non ci sei mai stato così non hai visto niente così al nord la prima volta che tu ah proprio ti dobbiamo portare per mano a capire che è la costellazione il drago degli anni pensavo fosse una cosa scontatissima ah quell'albero è particolare ma tu l'hai guardato da un punto a caso sei salito su un albero totalmente a caso la prospettiva cambia star wars è la stessa cosa del coltello di star wars l'antico coltello sit inciso con la forma che ha il relitto di manco vent'anni prima di una nave vabbè che però è in quel punto preciso come quest'albero perché si sa che jj abrams e il suo team di sceneggiatori sono bravissimi professionisti e gared è uno che usa la forza forse lavoravano qui in l'attertile gli sceneggiatori che accompagnano jj abrams spiegherebbero molte cose si chiama setticemia proprio noioso sto tizio ma poi perché sta così male l'hanno ferito si ma gli abbiamo curato curato però ha detto lui è un bambino in realtà sta benissimo ma vuole lamentarsi alla fine questo rimane indietro si è capito quindi adottiamo silvi però non ti arrendere resisti comunque ha risposto alla prima domanda alla prima risposta nostra perché sa badà da se stessa si ma può aiutare con il dolore si ma può aiutare con il dolore si ma può aiutare con il dolore che radici ha non hai fatto nulla che non potesse fare lei non hai fatto veramente ah un albero di lila si ma senza faccia è un metà lupo? un metà orso? un metà leone? un coso? un metà cinghiale? un metà drago? un metà drago? perché inizia a toccare tutto cosa cazzo tocchi? cosa cazzo tocchi? quando non tocchi comunque non va avanti si è dovuto inginocchiare perché dall'alto dalla sua altezza gli sembrava sano ancora no? va bene va benissimo e che continua a nevicare quando mettiamo in pausa ragazzi ma che cazzo allora noi siamo stati stronzi per tutto il discorso nel fine del nostro corso video vabbè ma questo è un altro livello sto veramente vediamo se lo tocca lo deve toccare per far arrivare il guida è Geralt questa cosa almeno ha senso il fatto che sei inginocchiato per vederlo meglio ah c'era la faccia ok è proprio lui non sono tutti uguali sentiamo gli alberi sta cosa è strana lost siamo finiti in lost è un orso polaro è un meta orso avevo la ragione visto è il famoso meta è fire from ice no no iron from ice iron from wood wood ice per qua pensavo che forse si sa che picasse hidewood combattimenti tutti tu niente mamma che male posso dire che anche nel del ring gli orsi sono infami di tutto il gioco salto è proprio il del ring anche il salto mi dispiace però per l'orso polare che stranamente non sa nuotare è il famoso orso polare che non sa nuotare sono io che succede perché questa musica di tensione perché siamo in una caverna cosa ho fatto di male è uscito un orso che non sapeva nuotare per motivi che non saprei spiegare perché fanno tutti così si sentono strani suoni ma poi perché che prega i sette dei questo che sta al nord oh sto infedile di merda lara lara barra barabara barabara larabara barabara larabara no non posso dire ci monetizzano dopo il video è vero non lo posso dire quando ho fatto la battuta invece non posso fatela voi no dai non la fate che poi è in testa di commento anzi non fate non fate stai dicendo tutto io sto dicendo mi sto noiando ma lui è livido guardalo quindi il bosco del nord è un bosco nel nord wow però non le torce di legno perro ah vi sapeva nuotare l'orso è un tirannosauro l'orso via sigla no non ancora ormai è una paresi facciale cotta quel simbolo cos'è quello è un albero gigante c'è l'erba diga perché è rossa ma quest'orso questo è l'orso di the long dark che ti insegue per tutta la mappa e questi ti uccidono appena ti vedono scusami ok lo pilotavano loro l'orso mi state dicendo questo no penso che l'abbia pilotato solo per bloccarlo ancora sta già male ci vediamo dopo il drago degli acci allora quindi il bosco del nord è un bosco a nord con i brutti i brutti che usano i poteri di mutapelle cosa che non è diverso dal resto del popolo libero e legno perro che non è diverso da casa forester cioè perché è così importante perché il bosco del nord è la patria del legno ferro lì c'è il signor legno ferro che ha dato il nome a tutto il legno ferro che è un uomo che amava così tanto gli alberi che ci si è accoppiato e da questa unione infame è nato il primo albero di legno ferro io il signor legno ferro ovviamente è passato la storia come legno ferro perché aveva un durello considerevolmente duro quasi come fosse il ferro siccome tu c'hai già giocato io non prendo per vero tutto quello che hai detto sono sicuro il 100% che è così tra l'altro non esce scritto pausa ma secondo me è messo in pausa il gioco si si è messo in pausa il gioco bene volevo dire queste due perle di verità è la verità assoluta si si è l'agnosi è calata dall'alto come la rioggia di merda ci sono sempre le stesse navi qui alla fruta del re qua non ha sempre la stessa tratta si chiamano tratte commerciali per un motivo non sono convinto che funzioni proprio così traduzione del team super game ragazzi grazie per la traduzione però un pochettino è come chiamare un super eroe superman ci sta però è stato fatto tanti anni fa questa è lì di margeri è timodissima ah se sono le stesse di margeri ok io apro la chiave ancora non l'abbiamo usata la chiave è l'occhio della madre che è successo? hanno scoperto che avevamo l'appuntamento con questo sì ne siamo di abbastanza consapevole ce ne sono accoste allora si no vai sputtana si in ogni caso però è arrivato Tyrion è arrivato Tyrion quello che è successo è colpa di Tyrion nella nostra vita sì sì c'era un sigillo il sigillo scusami ti pausa perché abbiamo il sigillo in mano perché la chiave è comparsa dopo perché perché hanno sbagliato qui perché davano per scontato che avremmo rubato il sigillo fingiamo di trovarla anche te lo capisci subito e cosa vuoi fare ho tenuto duro per te vuoi dire ho tenuto duro per te non so perché cosa significa proviamo a vedere forse per accusare Sara abbiamo rubato sta chiave nel primo episodio nel secondo non è servita a niente serve ora a ridarla a Marjorie ma che è sta cagata che faccio fingiamo di trovarla c'è ancora il sigillo in mano che non abbiamo mai preso sì però tu sforzati un po' di più cosa ha in mano si è bevuta la mia famiglia abbiamo i nostri parenti che stanno a morire porca Eva Marjorie non rompere le palle pure tu che è stata a dire questa cosa è Sera è vero è vero è vero ok eh no però c'è appena c'è appena premiato per onestà ma non è nessun piano ma non è vero in una festa complotti è arrivato Toran Martell sì Marjorie mi senti perché siamo entrati a una festa per favore da mettere troviamo così ma va a caccare va bene ma tornatene a casa mira tornatene a casa non servi più a niente qua stai in mezzo a un cubo di vipere mi piace mi piace che comunque prima dice sei stata onesta mi piace poi sei onesta eh però metà dito meglio Sera che invece sputtano a tutti Sera ci ha ci ha distrutto comunque ogni piano lei ha fatto e disfatto tutto da solo Sera sì no non ci crediamo mi dispiace non si può dare una testata penso di sì beh in realtà non mi era quello che volevo fare però no non dico niente non direi niente io non le parlerei proprio no no mai più mai più io non con le persone sono così quindi io credo questo è buonanotte ho proprio più te poi ci stava buona vita e te ne andavi sì sì ci stava buona vita no non la voglio sentire ha delle espressioni stranissime eh no non parlavano non parlavano non è che prima avevamo ci avete impulato tutti quanti senza vasella povera mia ok prima con chi eravamo chi ci aiutava assolutamente lei che ci ha tradito Tyrion che era inutile Cersei è quella che ci ha aiutato di più veramente vendiamoci a Cersei culo e anio a questo punto qui c'è Asher ops no scusate eh fa questo sono i nostri villaggi scusate che vuol dire e poi perché non hanno cibo eh babine eh la cosa più saggia sarebbe rimandarlo a casa a lei colpa a Lud che vuol dire che vuol dire tutto che vuol dire a Lud Whitehill che è che è ma sa non chi è però deve imparare possono dire il fatto che lui ha convinto una figlia a cercare di eh continuo aspettando di tornare la mia head e vedere il ritorno dietro mi ritorno 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 l'idea che lui di tutte le persone potrebbe essere morto grazie e magari diventiamo amici anche noi e poi al nostro fratello per davvero ma c'è morto nostro padre due settimane fa ma era comunque nostro fratello ci siamo cresciuti insieme e idromie no si 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 è una una Eh, l'ha capito Magari Magari ce la facciamo amica Sì, ma possiamo allontanarli O gli arringhiamo Gli altri Si due potrebbero Andare d'accordo Ok Si Un po' lunga questa inquadratura Ricordiamo che ho installato il gioco Una i su una ssd 32 giga di ram 3060 ti Però devi caricare Tutte le espressioni facciali Che non fanno In realtà Diciamo Era un 50 piste Non c'è signora Non c'è Scusami Ma sono veramente Cinque persone Che abbiamo portato Non erano Rappresentanti Dei Io sono un po' radicale Grif Grif Mi fanno il gioco Il gioco Scusami Mi scusami E' facile Io lo ho Ok Svento Ma poi Dove Ma non Sono un monso Ma non Sono un monso Ma non 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 Ma perché i bambini? No, perché noi non abbiamo nessun uomo in questa situazione? Due, siete quattro gatti, che vuol dire? Che ne sai tu delle mura? Ma la combattivano nelle fosse di combattimento! L'hai promesso? Non penso che le gambe fighino... Sfoderare la spada... siccome questi sono tezzi fissati con la forza... non è che è la situazione ideale... Può darsi di sì, ma io la puntavo, perché ho quello o la guerra sta arrivando? Silenzio non fa un po' un cazzo! E prova a tenere... Il punto, no, con la spada in mano... Disse Zhongli... Non c'erano le gambe... Se noi combattiamo tra noi, siamo morti! Se noi non confidiamo l'altro, siamo morti! E' oltre che si bandiamo insieme, o Rianwrath sarà il ultimo posto che nessuno di noi ha mai visto! Yeeah! Sembra convinta, lei... un po'... Un po' chettino... oppure questi se ne scappano di notte, non lo so... Questo chi è? Ma non è stato molto... No no, poi Whiting... C'hanno tutti quanti il costo triangolare loro! Che diceva lei? Estanno sul marchio. Sontandandare alla nostra gazione, a fine giornata! Ma noi non abbiamo nessun uomo Nessun No scusa metti pausa Noi nello scorso episodio dovevamo scegliere Se portarci Gli uomini con noi a Whitey No ma anche nessuno Poi è arrivato Ramsay però Non penso che abbia ucciso Cioè ha ucciso Arthur Non c'è più nessuno ormai Dovremmo avere anche noi un po' di persone Che facciamo? Raccolta di uomini Fortifichiamo le muro o diamo l'allarme? E' uguale penso a prescindere Chiama il racconto di uomini Vai vai Fortifichiamo le muro Io volevo vedere questi uomini Più che altro E sono loro Sono i contadini Quindi andavamo A castello dei uomini Comunque hanno chiuso tutto Secondo me la castellina era la stessa Quindi noi se dovevamo andare lì Andavamo Con i contadini Chiudiamo qui Sì 29 minuti Probabilmente Più corto Perché dobbiamo tagliare un po' di pà Vabbè comunque Va bene Va bene ragazzi Io ero convinto che ci mostrasse quei 5-6 gladiatori Però poi se ne portasse un centinaio E invece no Sono 5-6 gladiatori Che ce ne facciamo? Ci facciamo Ci mettiamo a combattere Ci divertiamo I White Hill Verranno a fare catapulte Avevamo Avevamo uno scrigno pieno di monete d'oro Cioè con quello scrigno di monete d'oro Ti compravi una compagna dorata Pagavamo I uomini dei White Hill Per dire Diventate uomini nostri Quelli non hanno mai visto tutto quel loro Veramente Andavamo da Lord Bolton E dicevamo Senti i White Hill A noi ci hanno rotto le palle Che dici se Ci metti a noi al posto l'oro Ti diamo quest'oro Rose Bolton Ci abbracciava Come fratelli Ci dava un mantello di carne umana Di penne umana Fatto con le garappelle dei White Hill Che voglio dire Solo Lord copriva mezza famiglia Quindi Non che Griff sia particolarmente piccolo In realtà Quindi pure lui Va bene Eh niente ragazzi Sono subito da questo dettaglio Vabbè Niente Ci vediamo al prossimo Gameplies ragazzi Ciao Che merda Ciao 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 Ciao